Nel prossimo servizio Margherita Salemme ci parla invece del sogno americano Napoli, New York, Solo Andata. Questa potenza dell'idea di sogno americano... E' giunta anche a Napoli, al Blu di Prusso, in via Filangeri, la presentazione del docufilm New York Solo Andata, nella città, a pali del regista Davide Ippolito. Dopo la prima proiezione all'Istituto di Cultura Italiana di New York e un tour per diverse città italiane, e statunitensi partenopei hanno visto il docufilm che racconta il sogno americano, un percorso che ha accompagnato molte generazioni di napoletani. Mi sono trasferito a New York meno di un anno fa, una città che è molto simile a quella di Napoli, ha grandi analogie, e mi è piaciuto esplorare la storia dell'immigrazione degli italiani negli Stati Uniti, che negli anni è cambiata totalmente, passando dai peggiori immigrati, quelli trattati meglio, peggio tra l'altro tutti i meridionali, a invece all'immigrazione di oggi, e oggi avere un passaporto italiano è molto cool e molto figo negli Stati Uniti, quindi l'occasione di raccontare come si è voluta la reputazione degli italiani negli Stati Uniti. Una volta tornati in Italia ci siamo subito messi a raccogliere tutto questo materiale, tra l'altro con personalità dalle più variegate, quindi dal mondo della cultura, dell'arte, dell'improditoria, del management, quindi magari settori che apparentemente tra di loro c'entrano poco, però sono tutti collegati da un unico filo conduttore che è appunto essere a New York e appunto aver trovato il giusto successo che meritavano. Come è nata l'idea di scrivere la canzone l'ultima sera? È nata quando Davide Ippolito, il regista del film New York solo andata, cercava una canzone che potesse concludere al meglio questo bellissimo docufilm, e quindi io non ho fatto altro che immergermi e immaginare di essere un espatriato, un espatriato in cerca sicuramente di successo, ma con una grande nostalgia verso la sua nazione, in questo caso verso la nostra Italia. Alla presentazione moderata dal giornalista Mattia Giovanni hanno preso parte la consule USA Tracy Roberts, Pond, il vicepresidente di Confindustria Abito Grassi e il docente della Federico II Luigi Caramiello.